Vediamo un po' con questo simpatico commento che raccolgo dal 2017, ma è stato molto profetico questo fratello, secondo me, perché già vedeva quella che era la deriva. La Torre di Guardia non aveva considerato ancora la possibilità di broadcasting, quando ancora le altre, quelle che chiamo le business religions, le religioni del business, insomma, avevano già intuito le potenzialità e l'importanza di farsi vedere. Il corpo direttivo nessuno l'aveva mai visto in faccia, alcuni dicono che era meglio prima, ma di fatto anche la Torre di Guardia si sta adeguando sempre di più e non era ancora stato propagandato, se ne parlava già sicuramente, ma non proponendo come viene adesso, Ramapo. Ramapo, che è la Hollywood della Watchtower, e che di fatto punta a sfruttare il volontariato anche come attori, come tutto il casting viene fatto reclutando testimoni di gioia volontari, che permetterà di risparmiare tantissimo nella produzione di video improprio, che di fatto stanno sempre più prendendo corpo all'interno dell'insegnamento, delle dottrine, nel senso che passano sempre più attraverso le immagini e meno attraverso la letteratura scritta e il testo scritto. Il cartaceo ormai tra un po' ce lo scordiamo probabilmente proprio del tutto, ma forse i diarberi ringraziano, ma di fatto Ramapo, che poi sempre è la sola marca, tipo Doridos, una mappa, una marca, sono le ragazze, sono le mezzanotte e mezza, abbiamo un lato con i ragazzi in narratorio per la partita dell'Italia e sono cotto. E lo so, non sono neutrale, ma io non sono tifoso tanto del calcio, vedete, sono tifoso della vita, mi piace stare con i giovani, è importante stare con loro. E quindi capite, e questo, e beh, leggiamolo questo commento, perché poi parlo parlo io. Scusate, ma avete visto il nuovo talk show The Inside Story su Broadcasting? No comment, stiamo diventando come quelle televisioni religiose americane, tra qualche anno manderanno in diretta anche le guarigioni. Beh, questo non penso, perché nella teologia, diciamo così, della Watchtower non sono contemplati i miracoli dopo la morte dell'ultimo apostolo. La nuova frontiera teocratica e il nuovo arrivismo sarà poter partecipare in TV al Broadcasting. Perciò, fratelli e sorelle, preparatevi, serviranno pionieri televisivi conduttori TV, pionieri televisivi che fanno reportage, pionieri televisivi che cantano, suonano e ballano. Se siamo fortunati, avremo anche la nostra lotteria teocratica per l'assegnazione dei territori. Ah, dimenticavo, serviranno anche sorelle pioniere verina. Ma, secondo me, a pensare male, come al solito si fa un peccato, ma spesso ci si indovina. Lui aveva visto giusto la piega che sta prendendo, appunto, questa, una delle tante religion business, business religions, ecco, che ci sono in America. Tra cui anche, semplicemente, la Torre di Guardia, molto ben camuffata da culto, ma di fatto impegnata su più campi e soprattutto negli investimenti immobiliari. Niente, ci lasciamo, così, con questo pensiero, ma su questo, come al solito, faccio sempre la mia ciliegina di aggiunta, ecco, sul fatto del business. Il punto discriminante qual è? Non è il fatto che circolino tanti soldi, è che uso si fa di questi soldi. È lì il punto discriminante. Perché, inevitabilmente, dove ci sono tanti fedeli, i soldi ne circolano. Ma che uso viene fatto di questi soldi? E se permettete, io, che sono stato missionario anche in Africa, l'ho visto sotto i miei occhi, l'uso buono che si fa dei soldi racconti. In determinate realtà cristiane, c'è sempre qualcuno che poi, quando c'è questo giro di soldi, intinge le dita nella marmellata. Ma questo, vi posso assicurare, tutto il mondo e il paese, non vi stanco di dirlo. Non pensiate che, nei testi, come vi diceva, non c'è chi non ha approfittato, eh, e non approfitta, di questi vantaggi economici. Ovviamente, uscite fuori da questo loop, da questo sogno. Ecco, prima ne uscite, è meglio per voi, insomma, e realizzare che, dietro a tutto questo reportage, tutto questo TV, tutti questi messaggi, comunque, lo sfondo è sempre quello del money, 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 money. Buonanotte a tutti quanti.